Domenica 18 giugno alle 16 scocca l'ora dei play-off di football americano con i ranocchi Angels-Pesaro che si giocano sul terreno amico del campo a scuola di Via Respighi la semifinale di South Air Conference per tentare la scalata alla Serie 2. Dopo un cammino da 5 vittorie e una sconfitta, gli Angels se la vedranno con i pretoriani Roma. È già da un po' che pensiamo a questa partita, cioè dall'ultima nella stagione regolare in cui abbiamo conquistato il primo posto nel girone, quindi sapevamo di avere una settimana in più per noi preziosissima per recuperare gli infortunati e preparare bene questa partita. Come si sa, la parte dei play-off o si vince o si va a casa, quindi tutto ci giochiamo in questa partita e ci prepariamo sia in attacco che in difesa, sia nel tenere alto il livello atletico dei giocatori che quello tecnico, ma anche e soprattutto nello scouting della difesa e dell'attacco avversario. Abbiamo visto i filmati, diciamo che li conosciamo già, molti dei loro giocatori li conosciamo dal passato, ma per questa, soprattutto nel CIF9, ogni anno sono squadre che cambiano tanto, anche noi siamo cambiati tanto dall'anno scorso, e quindi studiandoci i filmati e provando sul campo prepariamo al meglio questa partita. Gli Angels arrivano in semifinale con un gruppo di giocatori che ha inannellato prestazioni e risultati trascinati da entusiasmo, ma anche dall'esperienza di punti di riferimento come Filippo Pier Maria in procinto di chiudere la carriera per raggiunti limiti d'età. I nostri anni sono a mille, anche perché oltre a essere la mia ultima partita in casa potrebbe essere anche l'ultima partita della mia carriera se dovessimo perdere. La partita la stiamo preparando molto bene, abbiamo studiato i nostri avversari, i pretoriani Roma, abbiamo buttato giù una difesa fatta apposta per il loro attacco e quindi ci stiamo allenando bene e tanti, quindi il morale è molto alto e siamo fiduciosi.